Allora, benvenuti, io sono Dario Morandotti, sono il direttore del Branch Lombardia, il Project Management Institute e oggi vi farò da introduzione e facilitazione sul webinar che parlerà della formazione universitaria del Project Manager. Di cosa si tratta? È un webinar di un'ora organizzato dal Branch Lombardia in cui Tommaso Buganzi ci parlerà di come vengono formati i Project Manager a livello universitario, che evoluzione ha avuto, che metodologie vengono usate. Ci sarà spazio per delle domande, la sessione può essere considerata certamente interattiva e per capire come questo particolare tipo di formazione, sempre più importante, ha adesso delle solide basi anche nell'università. Quindi è uno storytelling, approcci, esperienze, successi, anche di difficoltà. Vi era preso il caso del Politecnico di Milano più il MIP che è l'abitazione del Politecnico di Milano e anche considerazione su risultati post-corsi. Tommaso è professore di Leadership Innovation al Politecnico, è responsabile di Career Development al MIP e insegna diverse materie, Leadership Innovation, New Product Service Development in diverse scuole ed anche in diverse università, Design Driven Innovation e Master in Business Design. Come sempre il webinar è intestato in alcuni filoni tipici del PMI NIC, questo è knowledge e formazione e verrà distribuita a tutti, verrà mandata PDU alla fine del webinar. Nella brochure avete anche ricevuto modalità con cui dare feedback. A questo punto lascio parlare Tommaso e do lo schermo a lui mettendolo come presentatore. Ok, grazie mille Dario, allora buongiorno a tutti, come giustamente vi sei detto mi chiamo Tommaso Buganza, in realtà aggiungo una cosa a quelle che ha detto prima Dario, cioè che il School of Management del Politecnico di Milano, adesso vi darò anche due numeri giusto per capire di cosa si fa, per capire di farla, ha poi una sua Project Management Academy e la persona che coordina questa Project Management Academy da 2000 sono appunto io, quindi quello che vi sto per portare è un'esperienza che va un po' al di là di quella che è la mia esperienza personale, nel senso che è l'esperienza di un'intera scuola. Un'intera scuola che ha dovuto affrontare una serie di cambiamenti notevoli in relazione a come vengono fatte alcune cose e a quali temi vengono fatti. Il tema del Project Management è così come tanti altri in realtà, è un tema in continua evoluzione, basti pensare che qualche anno fa non sarebbe stato minimamente pensabile o necessario parlare di Project Management Agile, cose che invece oggi è assolutamente centrale. Quindi da un lato il che cosa viene fatto deve modificarsi e dall'altro soprattutto anche il come. Quindi io incentrerò un po' questa chiacchierata su questi due temi, su cosa noi facciamo e come proviamo a farlo. Allora, giusto due numeri veloci, adesso non credo che Politecnico Milano abbia bisogno in realtà di presentazioni, si tratta dell'Università Tecnica più prestigiosa in Italia, da un po' di tempo i 150 anni, abbiamo più o meno 40.000 studenti, in realtà abbiamo tre grosse anime, un'anima di architettura, un'anima di disegno industriale e un'anima di ingegneria, vari campus eccetera eccetera. Nei ranking internazionali che stanno diventando sempre più importanti, siamo rancati primi a livello nazionale, settimi in Europa e ventiquattresimi a livello mondo. In realtà però, Politecnico Milano è proprio per quello che vi sto dicendo, grande, estremamente variegato e quindi io in realtà porto oggi la voce di una parte di questo Politecnico che è la parte che va sotto il nome di SOM o School of Management. La School of Management è dal punto di vista organizzativo data dall'incrocio tra due cose, quindi da un lato il Politecnico vero e proprio e dall'altro il braccio per offrire servizi del Politecnico che è il Politecnico. Probabile che molti di voi conoscano già il MIP, il MIP è la Graduate School of Business del Politecnico. Diciamo che da un lato il Politecnico si occupa della ricerca, dall'altro fondamentalmente il MIP si occupa di fare corporate education, quindi lavorare con le imprese per fare formazione e di fare una management academy, quindi vari corsi dagli MBA, executive MBA e cose di questo genere e in mezzo rimane un mondo che in qualche modo tocca sia la parte di ricerca che la parte di erogazione. Perché volevo mostrarvi questo slide? Perché alcune delle cose che vi racconterò sono proprio all'incrocio, cioè io vi vorrei farvi vedere come noi stiamo in qualche modo, quello che facciamo e come lo facciamo anche per il fatto che siamo ricercatori, cioè molti di noi sono ricercatori anche nell'ambito della formazione e quindi la nostra ricerca nell'ambito della formazione porta poi a fare una serie di sperimentazioni per quanto riguarda l'ambito di erogazione. Non tutte le scuole, non tutte le business school hanno questo tipo di approccio, perché non tutte le business school hanno una parte di ricerca forte interna, quindi noi unendo queste due cose cosa facciamo? Sviluppiamo tipicamente nuove proposte per il mercato corporate, quindi per le imprese e quelle cose che funzionano poi a livello di ricerca, quindi quello a livello di corsi universitari. Cioè quello che a me piace sempre molto raccontare è che alcune delle più rilevanti innovazioni che vi farò vedere, noi abbiamo sviluppato negli ultimi anni, sono state in qualche modo finanziate da imprese che hanno creduto in questo tipo di innovazione, però poi questo tipo di innovazione è stato poi portato gratuitamente all'interno dei corsi di una pubblica amministrazione, quindi di un'università pubblica. E quindi c'è questo gioco che ci permette di fare in qualche modo su due fronti. Parlando di SOM, anche qui due numeri giusto per darvi un'idea di cosa stiamo parlando, stiamo parlando di un insieme di oltre 111 membri di facoltà, quindi professori a cui si aggiungono, però poi membri di facoltà estesa altrettanti, quindi abbiamo più di 230-140 docenti all'attivo, abbiamo un budget totale di 38 milioni di euro, che per il tipo di lavoro che facciamo non è poco, quindi è un budget attivo lato università. Abbiamo anche una quantità di membri di staff, quindi siamo organizzati come una società che vuole offrire un budget verso l'esterno, e poi evidentemente abbiamo tutta una serie di contributi scientifici, che come dicevo prima, noi siamo molto orgogliosi, oltre 1.400 negli ultimi cinque anni, quindi è una school of management attiva sia sul lato della formazione universitaria, post-universitaria, che sul lato della ricerca, e questo passaggio è per noi molto, molto rilevante. Ora, al di là di questi numeri, che cosa vorrei raccontarvi? Allora, innanzitutto vorrei raccontarvi che noi abbiamo, viviamo il nostro ruolo all'interno della società in modo attivo, cioè noi riteniamo che in qualche modo il Politecnico, visti i numeri che abbiamo, vi ho appena mostrato, abbia il compito di fare scuola, e quindi tendiamo a pensare e a sviluppare dei modelli, spesso condivisi anche con altre realtà in giro per il mondo, che però rappresentano un po' la nostra visione del project management, quello che noi vorremmo insegnare con il project management. E questa slide in qualche modo racconta quali sono i pilastri della nostra visione del project management. Un project management che ha una dimensione tecnica, quindi ci sono delle competenze tecniche, che sono principalmente pianificazione e controllo, che poi possono essere più o meno complicate, si può andare da una pianificazione molto semplice con due o tre milestone, fino a pianificazioni di cash flow, di commessa per progetti in project financing della durata di vent'anni, quindi il grado di complessità può cambiare, ma sono tipicamente competenze tecniche di pianificazione e di controllo. La seconda cosa che noi raccontiamo è che però queste competenze non sono per loro sufficienti a gestire progetti, perché noi riteniamo anche competenze manageriali, organizzative, manageriali in termini proprio di decision making, come si prende una decisione, e organizzative nel senso di capire che i progetti vengono svolti all'interno di organizzazioni e le organizzazioni hanno delle regole, dei meccanismi di funzionamento, delle problematiche, e se io non conosco le dinamiche dell'organizzazione, tipicamente faccio fatica a gestire i progetti all'interno dell'organizzazione, soprattutto poi se sono gestiti a matrice, eccetera, eccetera. La terza gamba del nostro modello formativo è invece una parte behavioral, anche qui ovviamente non siamo gli unici al mondo a sostenere questa cosa, però noi l'abbiamo presa in modo un po' serio, nel senso che praticamente tutti i nostri interventi, tutta la nostra formazione comprende le parti behavioral. è inevitabile che se non si hanno delle competenze di comunicazione, di negoziazione, di leadership, di capacità di costruire rapporti efficaci con le persone, che possono essere sia i membri del team, che i project manager, che il cliente, lo sponsor, se non si gestisce questa dimensione, è molto difficile riuscire a gestire un progetto. E quindi questo è l'insieme delle competenze che noi cerchiamo di sviluppare attraverso i nostri informativi, ripeto, sia verso le imprese che poi verso gli studenti universitari. Come lo facciamo? Adesso ovviamente non è il mio obiettivo andare a farvi una vendita, del catalogo, di quello che facciamo, però alcune cose vorrei raccontarvele, perché ci sono sotto delle logiche che abbiamo sviluppato nel tempo. Quindi noi abbiamo una formazione che è tutto sommato abbastanza in termini di moduli. Al contrario di altre scuole, di altri approcci, che tendono a sviluppare tantissimi corsi diversi, noi sviluppiamo poco, tutto sommato pochi corsi, che però sono estremamente mirati, e sono tra di loro, si incastrano, no, per costruire alla fine un percorso di crescita delle persone. Abbiamo quella che noi chiamiamo formazione di base, che è un corso che vede fondamentalmente il project management non comune. Cioè una delle cose che noi raccontiamo in questo corso è che mentre alcune competenze di marketing o di accounting sono essenziali per fare il lavoro, se lavori in marketing o in accounting, ma non sono necessarie in senso inverso, cioè se lavoro nel marketing, conoscere molto bene l'accounting potrebbe non essere particolarmente necessaria, questa cosa non è vera per il project management. Il project management, la gestione del progetto è uno dei due modi, ce ne sono solo due, per coordinare le attività di persone diverse all'interno di un'organizzazione. Io coordino le persone che stanno in posti diversi di organizzazione o con processi o con progetti. Per processi se sto facendo cose ripetitive, per progetti sto facendo cose che hanno un grado di unicità. Quindi questo significa che il bagaglio di conoscenza del project management, almeno di base, è un bagaglio di conoscenza che è necessario, che deve essere sviluppato da ogni singolo manager, cioè non è che il project management è qualcosa che devono sapere i project manager. Il project management è uno dei due modi di lavorare all'interno di un'organizzazione, soprattutto con i tempi che passano, quindi aumento di pressione competitiva, tecnologie sempre più veloci, cambi di coordinatura organizzativa, strategica, di mercato, eccetera, eccetera. In realtà la necessità di modificarsi delle imprese aumenta e tutti devono saper fare project management. E questo è il nostro corso di base, dove in realtà di base, secondo me, è un nome che dovremmo cambiare, nel senso che poi le persone vengono a farlo e scoprono che non è così di base. Nel senso che è inteso di base, come basica, la competenza di project management che noi andiamo a sviluppare, cioè uguale per tutti i PM. Abbiamo evidentemente anche un corso, invece, sulla parte agile, che non si occupa di vedere come sviluppare, come utilizzare Scrum, o qualcosa di questo genere, in progetti software, ma in progetti non software. Quindi lasciamo lo sviluppo di metodologie agili per i progetti software, che sono molto specifiche a chi fa questo di lavoro, e invece noi ci occupiamo di che cosa significa portare agilità all'interno di tutti gli altri mondi che oggi si stanno domandando come fare. La parte di destra, invece, perché viene messa a destra? Viene messa a destra perché in realtà prevede che sia fatto uno dei due prima, cioè c'è una logica di sequenzialità. Abbiamo quello che noi chiamiamo advanced, che invece è una formazione, in questo caso sì, andiamo a formare i project manager che fanno di lavoro, i project manager magari su commesse di grosse dimensioni. Quindi qui ci rivolgiamo a persone che magari gestiscono progetti da 3, 4, 5, 22 anni, con milioni o centinaia di milioni o anche miliardi di budget, quindi ci muoviamo nell'ambito delle grandi opere di ingegneria e dei settori industriali, e qui abbiamo identificato negli anni tre grossi, secondo noi, aree di intervento, punti, in cui ancora oggi la formazione è carente e le competenze delle persone devono essere migliorate. Uno è la parte di rischio, gestione del rischio, quindi questi sono tutti approcci quantitativi, questi, quindi vuol dire una parte di rischio fatta con Monte Carlo, con tutta la parte statistica, con la definizione degli impatti sui costi, eccetera, eccetera. una parte di controlling che significa portare a un livello abbastanza alto l'utilizzo di tecniche di earned value sia per definire anticipi ritardi di efficienza e inefficienza, ma soprattutto per le ripianificazioni delle simulazioni a finire, e una parte di value che comprende tutta la parte di gestione del capitale circolante, quindi non solo una visione economica, ma anche una finanziaria. Quindi come vedete queste sono competenze che sono richieste a qualunque persona che gestisca un progetto, ma solo persone che sono coinvolti in progetti di una certa dimensione. Una cosa che facciamo spesso sono questi fondamentali. A noi è chiaro che esiste una differenza tra la teoria e la pratica. Tendiamo, poi farò vedere qualcosa, a portare molta pratica nella nostra formazione, ma poi chiediamo alle persone di farlo veramente sui loro progetti e gli diamo poi un servizio fondamentalmente di feedback. Quindi cosa succede? Che noi chiediamo ai manager di applicare quanto visto poi a casa loro, gli diamo una, due, tre, quattro settimane a seconda del caso, e poi facciamo una versione di coaching in cui andiamo a vedere cosa hanno fatto, come l'hanno fatto, gli raccontiamo che cosa secondo noi non funziona e quindi li aiutiamo in due o tre, quattro passaggi a costruire invece una pianificazione o un controllo che siano auspicabilmente un po' più efficaci. E infine, evidentemente, abbiamo i corsi che preparano la certificazione. adesso qui dare mi perdonerà però noi lo facciamo sia per PMI che per IPMA quindi lo facciamo diciamo per i principali enti di certificazione. Questa parte, adesso non mi spenderei più di tanto tempo su questo, nel senso che quello che volevo comunicare è che ci sono dei temi che sono particolarmente forti e che non sono uguali per tutti. Cioè il mondo del project management è un mondo molto variegato che va da chi appunto gestisce large projects a chi invece è project manager di piccole iniziative interne e in realtà è vero che esiste un corpo di conoscenza che è comune a tutti questi ma poi esistono delle specificità e quindi noi tendiamo a sviluppare dei contenuti che siano funzionali a quello che la gente veramente necessita per riuscire a svolgere bene il proprio lavoro. Abbiamo dei test d'ingresso che spieghiamo di che cosa hai bisogno eccetera eccetera quindi c'è proprio una parte di consulenza in cui insieme a te decidiamo qual è il percorso il percorso giusto da fare per le tue necessità. Questo è un po' diciamo il pacchetto di base di quello che noi facciamo come formazione su project management. Quello che però mi sembra decisamente più interessante in questo momento discutere perché dove abbiamo fatto veramente tantissimo lavoro negli ultimi anni sono le metodologie didattiche quindi come noi eroghiamo contenuti di project management e ripeto partendo dalla formazione universitaria arrivando alla formazione ipertecnica o iper specifica per imprese per imprese specifiche. Allora io evidentemente voi verrete da tantissimi settori diversi però credo che tutti in qualche modo si siano un po' spaventati a vedere questa cosa. Uber è solo un esempio poi ce ne sono tanti altri no? Per Uber è diventato un po' il simbolo di quelli che vengono chiamati big bang disruptors quindi di imprese che arrivano in settori che sono ben e lì distruggono in relativamente poco tempo perché? Perché riescono a offrire servizi migliori a un costo più basso e a una sfruttando le tecnologie digitali eccetera eccetera adesso questo non è argomento di quello di cui vogliamo parlare però noi come settore della formazione ci siamo domandati lungamente e adesso che cosa succede perché se voi ci pensate in qualche modo la maggior parte di voi ma anche purtroppo la maggior parte delle delle persone che stanno andando in università in questo momento studiano su dei libri ora io non vorrei dire ma il libro che adesso io ho qua sulla mia scrivania che tra l'altro è molto bello dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista dell'interazione è abbastanza simile al libro di Gutenberg sì abbiamo sviluppato delle tecnologie di stampa diverse adesso abbiamo il colore non abbiamo più le stampanti a pressa le copertine sono molto fighe però il problema è che che è un libro cioè è esattamente lo stesso identico libro che io avevo avevo una volta ed è sorprendente se ci pensate questa cosa perché perché in qualche modo tutto il mondo è cambiato cioè io oggi faccio qualunque cosa da per notare un albergo a capire che mezzi pubblici devo prendere a comprare i regali e a comprare addirittura i pannolini per mia figlia faccio tutto attraverso un cellulare però continuo a leggere il libro che assomiglia a quello a quello di Gutenberg è evidente che prima o poi succederà qualcosa è evidente che prima o poi qualcuno arriverà su questo settore avete capito una mazza cioè il mondo è cambiato ci sono delle nuove possibilità perché non non facciamo le cose in modo diverso ecco noi in qualche modo abbiamo la volontà a meno di provare a evitare di essere uberizzati cioè di essere in qualche modo di essere resi marginali e in diciamo non più utili da un giocatore esterno cioè ci piacerebbe marginalizzarci da soli cioè fare noi e cambiamenta e quindi questa è un'attività che a livello generale di Politecnico è iniziata più di una decina e che oggi sta dando dei frutti di un certo di un certo tipo quindi quello che io voglio raccontarvi è più o meno che cosa stiamo facendo dal punto di vista di cambiare non solo i contenuti cioè se si parla di agile o non di agile ma proprio tutto il processo formativo che noi utilizziamo allora le prime due parole che in qualche modo hanno guidato il nostro processo di cambiamento sono flipped and blended flipped significa all'incontrario e blended significa unito quindi messo insieme perché queste due cose sono quelle che abbiamo scelto non sono noi ovviamente a livello mondiale ma su cui stiamo lavorando e che ci stanno dando delle soddisfazioni bene adesso bisogna capire di qua si parla allora partiamo da qua questo è il lo schema tipico di come funzionava e nel purtroppo boh 90% dei casi ancora funziona la formazione una parte di lecturing che significa qualcuno che fa lezione quindi un essere umano che impiega del tempo in formato fisico digitale questo non è rilevante ma impiega del tempo a spiegare delle cose ad altre persone che ascoltano e al limite fanno delle domande poi finita questa parte di trasferimento di conoscenza parte quella che in realtà la parte più importante del processo di apprendimento che è la parte di learning una parte in cui le persone dopo aver ascoltato in un'aula universitaria piuttosto che in un in un'aula di un centro di formazione dopo aver ascoltato una serie di cose gli esercizi e fatto delle domande torna a casa e gli viene lasciato il problema di e mo applichalo a casa tua perché per quanto tu voglia provare a introdurre degli esempi specifici della realtà nella formazione rimane sempre una formazione che non è quella di come si fa a casa tua perché magari questa cosa a casa tua ancora non la stai facendo magari tu non stai applicando earning value a casa tua per cui adesso hai capito come funziona il tuo problema è learning il tuo problema è learning che significa cosa cavolo ci puoi fare con questa roba come fai ad essere sicuro per cui fanno la formazione quelli come me cioè i docenti per me la formazione è fare lezione ma per chi compra formazione la cosa importante è apprendere quindi cambiare quello che fai sapere cose nuove e modificare quello che tu sai fare e fai effettivamente quindi noi di solito cosa facciamo nella parte lecturing mettiamo il professore quindi quello che in teoria dovrebbe avere delle conoscenze e poi la parte learning che è la parte maggiore valore aggiunto in realtà le persone sono più o meno abbandonate al loro al loro destino poi giusto per essere insicuri in fondo facciamo un test che può essere un esame universitario un test di uscita da un corso per vedere che tu abbia capito qualcosa questo è lo schema tipico di come veniva fatta la formazione ora cosa succede che le tecnologie digitali cambiano un po' il mondo se conoscete questi due marchi ce ne sono tanti ma questi sono i più interessanti uno si chiama Cursi Khan Academy andate a cercarveli se non li conoscete perché sono due ambienti molto interessanti Cursera di fatto è un repository di corsi universitari fatti a clip quindi tu vai lì ti scarichi in clip te le vedi e fai il corso universitario è gratuito a meno che tu non voglia la certificazione attenzione se tu fai il corso e fai l'esame e paghi per attendere per partecipare ufficialmente al corso questi ti rilasciano un attestato che è valido in moltissime delle scuole anche noi a Politecnico ci stiamo attrezzando per far sì che alcune cose non le spieghiamo più noi ma te le vai a fare su Cursera mi dimostri che hai passato l'esame e io dopo è scontato che tu queste cose le sappia questi corsi sono fatti da alcune delle migliori università del mondo e ci sono alcuni dei migliori ricercatori e professori del mondo a fare corsi su Cursera io poco tempo fa ho fatto un corso di machine learning che era fatto niente un po' di meno che dal responsabile di machine learning di Google il quale ha fatto questo corso in clip l'ha messo su Cursera e tu lo puoi usare se vuoi la certificazione scritta che hai fatto questo corso paghi altrimenti gratis la conoscenza è una commodity la conoscenza sta diventando gratis non ha senso che io debba avere decine e decine di professori che vanno in giro per il mondo a raccontare tutti la stessa cosa lo racconta uno bene una volta e gli altri guardano le clip questa è la logica di Cursera quando è uscito Cursera pensavamo che fosse il nostro Uber pensavamo che il gioco fosse finito e molti di noi hanno cominciato a cercare lavoro in realtà Cursera esiste ormai da dieci anni e non ha cambiato il mondo quindi vuol dire che non è il nostro Uber perché evidentemente gli manca qualcosa è molto molto forte in termini di creazione di conoscenza rendere accessibile la conoscenza ma gli manca qualcosa quindi è in qualche modo digitale ma c'è qualcosa che non funziona se andate a vedervi c'è un bellissimo TED Talk non so se conoscete il sito TED c'è un bellissimo TED Talk poi qua sotto troverete il link di Sal Khan Khan è colui che ha creato la Khan Academy il quale invece comincia a fare dei ragionamenti un po' più interessanti perché comincia a dire sì però diciamoci la verità le clip non è che siano poi il massimo della vita cioè vuoi mettere andare in un'aula e sentire uno che sono trent'anni che fa ricerca su una cosa raccontare piuttosto che vederti 27 clip la gente si rompe le scatole si distrae non fa gli esercizi si perde ha un dubbio o una domanda non può fare una domanda perché è la clip cioè non è che puoi tornare indietro a risentirlo se vuoi ma non puoi fare la domanda allora quello che succede è che proprio partendo da alcuni dei ragionamenti fatti dalla Khan Academy si è sviluppata questa idea del flipped and blended che non è un'idea solo nostra che ormai sta diventando anche se noi siamo mossi con un po' d'anticipo ormai sta diventando un po' un trend forte nel mercato che significa che noi agiamo al contrario invece di avere un docente in aula che spiega le cose e poi la parte di learning è lasciata a te facciamo al contrario il lecturing cioè il trasferimento della informazione della conoscenza io lo faccio senza docente io creo delle clip magari le faccio bene adesso vediamo cosa significa fare bene una clip ti do le clip e tu non hai bisogno che io venga raccontato il diagramma di Gantt piuttosto che l'approccio statistico per la definizione dei metodi di Monte Carlo ti fai delle clip e capisci il contenuto di questa roba quando è che entra in campo invece il professore che è quello che in cursero non c'è quando è che entra in campo invece chi ha magari più conoscenza entra in campo quando tu devi imparare quindi io prevedo che tu faccia delle cose da solo arrivi preparato e a quel punto io non vado a parlare della gente che non sa una mazza di quello di cui stiamo parlando ma parlare con la gente che ha un livello di preparazione eccelso e a quel punto la domanda che faremo non sarà più adesso ti spiego come funziona il metodo di Monte Carlo ma sarà adesso vediamo come applicarlo a un caso reale oppure vediamo come applicarlo a casa tua costruiamo insieme i sistemi per riuscire a fare questa cosa dimmi cosa funziona come non funziona dimmi cosa fai cosa non fai cosa ritieni che sia applicabile cosa no e che cosa non ti è chiaro perché un conto è imparare la teoria un conto è scaricare la terra e farla diventare delle cose reali questo passaggio è un passaggio in cui invece la presenza di qualcuno può essere molto ma allora hai più senso è così ha molto più senso io a questo punto ti aiuto e ti do un supporto sulla parte di creazione di apprendimento e non sul trasferimento di conoscenze perché flipped flipped perché al contrario invece di prima io e poi tu prima tu e poi io il che significa attenzione un enorme senso di responsabilità sulle persone se tu non fai quello che devi fare prima di venire in aula semplicemente non capisci una mazza noi ormai stiamo facendo dei corsi dove ogni tanto qualcuno arriva e dice hai fatto le clip? no mi spiace e poi questo passa due ore tre ore quattro ore fino a quando si alza e se ne va dicendo inutile che io stia qui perché non ho la minima idea di cosa state parlando perché le persone di fianco a me hanno sviluppato una conoscenza facendo del lavoro io invece questa conoscenza non sono l'ho sviluppata e siccome e siccome non possiamo adesso perché tu non hai fatto una cosa tornare indietro e tutti si devono risorbire i contenuti dei clip se no gli altri giustamente si ingufaliscono tu o stai lì a scaldare la sedia o te ne vai questo vuol dire attenzione è più facile andare a un corso sedersi e ascoltare il fatto che tu prima di fare questo per ore ore giorni debba studiare vuol dire darti una parte di responsabilità molto forte ma gli effetti sono spaventosi stiamo misurando dopo se avremo tempo vi faccio vedere come misuriamo stiamo misurando gli effetti stiamo avendo gli effetti spaventosi la nostra formazione è molto più efficace con questo sistema rispetto a prima flipped perché prima te lo fai da solo e poi vengo io blended perché non è solo clip ma è clip più una parte in aula che però si occupa di cose di cose differenti ora è ovvio che tutto questo gioco funziona fatto salvo un paio di cose primo le clip devono essere fatti bene cosa significa? significa che adesso senza ovviamente sono registrato quindi poi negherò di aver detto queste cose e dirò che sono stato malinterpretato non so se vi ricordate Rai Nettuno c'erano questi questi corsi universitari no? fatti dalla Rai di notte quindi un po' che erano di notte un po' che c'erano questo sfondo blu con uno che parlava dopo 35 secondi eri stato catatonico non in grado di di intendere e di volere no? è ovvio che se la faccio così diventa veramente dura cioè già ti sto chiedendo di fare n ore di lavoro prima di arrivare qua se poi ti faccio anche una roba che è pallosissima il gioco non funziona ma non è solo che deve essere fatta bene gradivole all'uso deve essere anche interactive interactive significa che cos'è che manca tipicamente nelle clip la possibilità di fare una domanda quindi vuol dire che se io faccio una clip non devo replicare semplicemente in formato digitale quello che farei in un'aula ma devo progettare un percorso di formazione che mi permetta di essere sicuro che tu stia capendo siccome tu non puoi alzare la mano e farmi una domanda come faccio io essere sicuro che tu che tu stia capendo e devo costruire questa formazione con delle logiche che noi definiamo di solito montessoriane non so chi di voi conosce la scuola montessori la scuola montessori si basa fondamentalmente sullo sviluppo di alcuni giochi per i bambini i quali sono ad auto tu riesci ad andare avanti nel gioco solo se hai fatto bene i passaggi prima se no il gioco già ti sta dicendo che stai sbagliando quindi invece di scoprirlo alla fine tu hai n passi e in ognuno di questi passi devi dimostrare di aver capito delle cose se non le hai capito torna indietro a fare questo pezzo fino a quando non lo capisci perché se invece tu ti porti dietro una cosa che non hai capito per due, tre, quattro, cinque passi arrivi in fondo e hai passato otto ore senza capire una mazza quindi dobbiamo sviluppare dei meccanismi che siano capaci di dare un auto feedback che hanno sempre una chiara percezione del fatto di star capendo di essere allineate di non essere allineate e se devono tornare indietro a fare qualcosa quando c'è il pezzettino che non hanno capito non alla fine che devono tornare a fare tutto l'altra cosa invece è che la parte in aula deve essere empirical built experience a quel punto non è più teoria a quel punto devi avere a disposizione anche qui c'è una progettazione molto forte in termini di contenuti devi avere a disposizione del materiale che ti permette veramente di applicare a casi reali perché sennò rimaniamo sempre nel mondo della teoria come facciamo a fare questo? allora questo è un esempio di un corso che abbiamo fatto adesso non vi racconto per chi per come come vedete è un corso innanzitutto è una roba che si basa su 12 giornate di formazione quindi è una cosa pesante è un corso che ha l'obiettivo di partire da un po' da project management di base ma poca roba per poi andare a vedere tutta la parte quantitativa quindi andare a fare le parti statistiche andare a fare le parti finanziarie quindi argomenti complessi non stiamo parlando di ah questo è il diagramma di Gantt guarda che carino che è ci sono i colori stiamo parlando di calcolo del net investing capital di commessa a 15 anni con attualizzazione usando il weighted average cost of capital a delle persone che non hanno la minima idea di cosa ho appena detto cioè che non hanno la minima conoscenza di questi contenuti ma devono arrivare fino a lì quindi come strutturiamo un corso di questo genere? allora vedete che nella parte in alto ci sono o delle telecamere o delle borsette la telecamera vuol dire ci sono delle clip la borsette vuol dire vieni qua che ne parliamo a valle di ognuna di queste attività comunque ci sono delle lezioni in presenza quindi la parte blended quindi vedete quattro blocchi di conoscenza intraorganizzazione performance management earned value risk management e value management e financial accounting con una serie poi di lezioni in presenza ora cerchiamo di capire come funziona come funzionano queste clip che caratteristiche hanno queste clip allora innanzitutto questo è il mio faccione quindi sapete anche che faccio innanzitutto le clip sono fatte bene nel senso che non le abbiamo fatte noi ci sono anche lì non ci si inventa un lavoro di questo genere c'è gente che studia comunicazione e che quindi studia tutto un sistema per fare delle clip che devono avere una certa durata una certa velocità ma poi soprattutto tutta una serie di cose che succedono nello schermo che ti tengono ti tengono attivo adesso qui lo vedete in modo statico però le scritte compaiono scompaiono il personaggio che c'è in primo piano va in secondo piano le cose gli passano dietro gli passano davanti si creano un po' la volta ci sono delle immagini animate cioè succedono una serie di cose perché noi viviamo in un mondo che è fatto così cioè viviamo in un mondo in cui i contenuti hanno una parte digitale una velocità tale per cui se non sono fatti così la gente si annoia io ho una bambina di 5 anni la bambina di 5 anni quando guarda i cartoni animati usciti negli ultimi 2-3 anni quindi magari vede che ne so trolls per dirne uno che è musica a palla velocissima colori accelerazioni grafiche eccetera eccetera rimane la televisione quando io provo a farle vedere Biancaneve i 7 nani quello originale dopo un quarto d'ora la vedi che comincia ad alzarsi gira eccetera eccetera ora io non sto dicendo che questo sia giusto o sbagliato non è questo il punto il punto è noi siamo abituati a fruire contenuti progettati in un certo modo allora o li progettiamo in quel modo lì oppure la gente non ci segue non c'è niente da fare può essere sia giusto o sbagliato ne possiamo parlare ma primo questa roba va progettata bene deve essere gradevole attenzione non è un videoclip rock però deve essere dinamica deve essere veloce seconda cosa quello che vi dicevo deve essere in qualche modo montessoriano quindi questa in questi in questo corso abbiamo sviluppato grazie ai fornitori esterni dei moduli in html5 in cui tu devi andare a mettere il cash in il cash out eccetera eccetera vedete in alto hai un tempo a sinistra hai delle istruzioni ti ricordo anche quali sono le formule ma tu devi agire e fino a quando non metterai i numeri giusti in quella riga con scritto taxes perché devi calcolarti la pressione fiscale in questo caso fino a quando non metterai i numeri e tu non vai avanti finiti i 5 minuti ti dirà guarda che ne hai fatta cioè tu non hai capito schiaccia un tasto che ti faccio vedere i risultati ma torna a farti i 5 minuti di lezione perché forse tu non hai capito con cui stiamo parlando e se io ti perdo qua siccome poi quel numero mi serve per i prossimi 57 passaggi io ti ho perso quindi dei sistemi che ti fanno fare un pezzettino te lo spiegano poi ti fanno provare a farlo provi a farlo se funziona se non funziona puoi chiedere un aiuto torni indietro lo rifai fino a quando non impari va a quello dopo eccetera eccetera non so se lo vedete ma questo vuol dire ricrogettare completamente la formazione perché in aula non lo fai così lo fai in un modo completamente diverso quindi per quanto riguarda le clip queste sono le cose che bisogna riuscire a fare e poi evidentemente hai sia per le clip che per le parti live che per le parti in aula una grossa parte di interattività anche qui non ho intenzione di scendere molto in dettaglio ma vorrei farvi vedere una cosa che per esempio stiamo usando tantissimo che è il feedback in real time non so quanti di voi conoscono queste immagini queste immagini è un murale sono stencil fatto su un muro bella o non bella ecco bella o non bella siccome sono curioso di sapere cosa ne pensate vi chiedo vediamo se funziona anche online questa cosa ok vi chiedo di fare questa cosa vi chiedo di aprire un browser quindi sul vostro cellulare sul vostro computer dove volete e di digitare quello che leggete lassù in cima polev.com slash buganza facendo questo dovreste essere portati a una pagina in cui vi chiedono una domanda molto semplice mi dovete dire se secondo voi questa è arte o vandalismo e facendo questa cosa io dovrei riuscire a vedere se il gioco funziona anche online dovrei riuscire a vedere come voi state rispondendo quindi provate se vi va sarebbe carino provate riscopriamo anche se c'è qualcuno di veramente collegato polev.com slash buganza si aprirà una pagina forse ok qui sono due cose che possono stare succedendo o non sta funzionando o non state provando quindi aspettiamo ancora 30 secondi oppure ce lo chiede la registrazione sì c'è un problema chiede la registrazione con email no no non deve chiedere la registrazione scusatemi pensavo di averla tolta questa cosa vabbè dopo ve la faccio fare adesso andiamo avanti no no non dovrei se la posso dire di togliere questa cosa pensavo di averla defleggata il risultato sarà una cosa simile a quella che vedete ora dopo vi faccio riprovare però noi in real time riusciamo a far lavorare le persone che significa che questo lo usiamo spesso per i casi esempio quello che vedete è un caso che noi utilizziamo per fare l'analisi di un progetto il progetto è il progetto del Vasa il Vasa è questa nave che per chi la conosce è una nave svedese che era la nave più incredibile della guerra creata nella storia fino a quel momento la quale entra e fa per uscire viene varata fa per uscire dal porto percorre 1500 yard che sono veramente poche e si inclina e affonda e non la trovano più per 400 anni c'è tutta l'analisi del caso e a quel punto cominciamo a discutere su chi è responsabile la gente può votare chi è responsabile alcuni ritengono che sia il king che era Gustavo Adolfo II alcuni ritengono che sia lo shipwright quindi il responsabile del cantiere alcuni pensano che sia l'ammiraglio il nostro uomo eccetera eccetera ad esempio noi mentre mentre facciamo il caso quello che succede il caso è costruito in modo tale che all'inizio tutti pensano che sia colpa del king e poi quasi tutti pensano che sia colpa di Heberson quindi dello shipwright come facciamo a fare questa cosa con delle discussioni quindi noi facciamo una discussione in questo caso in presenza facciamo una discussione durante questa discussione la gente può cambiare in tempo reale la gente si posiziona in modo diverso e un po' alla volta un po' alla volta un po' alla volta cambiano cambiano le le opinioni quindi sia in fase di presenza che in fase online facciamo molto metodi interattivi ovviamente poi dobbiamo lavorare bene anche sulla parte in presenza lavorare bene sulla parte in presenza significa lavorare bene sulla parte di contenuti reali allora in questo caso noi abbiamo sviluppato per questi corsi simulazioni che sono dei veri proprio giochi di ruolo quindi voi immaginatevi che tu sei stato a casa ti sei fatto in questo caso la bellezza di 6-8 ore di contenuti online abbastanza difficili con esami e tutto sul rischio in cui si è andato a vedere come funzionano il risk profile la simulazione di Monte Carlo eccetera eccetera arrivi in aula e quello che succede è che al di là di un saluti e cose di questo genere inizi pronti partenza invece si divide in gruppi il gioco è di natura competitiva quindi un gruppo vince un altro e gli altri perdono il gioco ha una serie di differenti fasi devi riuscire a capire il contesto come funziona il progetto eccetera eccetera ognuno si dà a dei ruoli la durata tipicamente è attorno alle 4 ore quindi tu passi 4 ore per riuscire a fare in modo corretto un bid di progetto applicando le metodologie di gestione del rischio oppure passi altre 4 ore per fare il calcolo dell'economic value dell'npv che tiene conto anche di tutta la parte di capitale circolante per un'automobile volante i casi sono casi veri gli abbiamo cambiato il nome il cognome i numeri ma sono tutti dati veri tutti i documenti che usi sono veri vieni sommerso di documentazione ti diamo in questo caso un foglio excel vuoto e ti diciamo costruisci il tuo simulatore ti costruisci il tuo simulatore qual è l'idea che sta alla base di questo l'idea è che noi identifichiamo nei processi dell'apprendimento tre fasi distinte quello che si chiama sapere quello che si chiama saper fare e quello che si chiama saper essere il sapere in realtà vuol dire che tu devi sapere che esiste una cosa che si chiama economic value added che esiste una cosa che si chiama EBIT e che se fai EBIT per uno meno le tasse meno net invested capital per il VACC ottieni una cosa che si chiama EO questo è sapere ora il sapere te lo sei già smazzato hai fatto le clip il sapere io ero dopo il scontato in questo tipo di formazione passaggi da fare quando sei in aula con noi saper fare e saper essere saper fare significa che tra sapere che esistono delle formule e prendersi 50 pagine di dati di progetto e calcolarti il suo reale valore e passa una bella differenza di capire dove stanno queste informazioni come metterle insieme eccetera eccetera in questo è un primo passaggio ed è il passaggio in cui noi ti chiediamo fondamentalmente di costruirti un simulatore che costruisci un sistema che ti permette di calcolare quello che stai facendo dopodiché cosa facciamo passiamo al saper essere che differenza c'è tra saper fare e saper essere un conto è sapersi calcolare gli indicatori un conto è saper prendere decisioni su questi indicatori noi sappiamo che viviamo tutti il nostro stesso mondo sappiamo che siamo sommessi di numeri ma non tutti i numeri hanno senso alcuni dei numeri che noi guardiamo sono tirati a caso sono calcolati male non sono aggiornati hanno dei problemi allora io non posso costruire un sistema di decision making di progetto basato su numeri senza domandarmi se i numeri sono buoni oppure no il passaggio tra saper fare ho calcolato i numeri con tutte le informazioni che ho il saper essere è capire quali sono i numeri a cui posso credere e quelli che no e quindi queste simulazioni prevedono poi tutta una serie di giochi di ruolo in cui tu in questo caso della simulazione del valore del progetto devi venire a dirmi secondo te come sta andando questo progetto secondo te quali sono i problemi secondo te quali sono le cose che possono essere messe a posto e quelle che no e mi devi giustificare perché capendo quali dati sono attendibili e quali no quali dati effettivamente stai considerando e quali no quindi vedete che è una formazione completamente diversa è una formazione in cui non è che arrivi e c'è uno che comincia a chiacchierare no no tu tutta la informazione ce l'hai già prima da me vieni a fare in questo caso su questo tipo di formazione saper fare saper essere al di là del buongiorno buonasera e creiamo dei gruppi che abbiano senso dopodiché devi applicare quello che hai studiato capite bene quello che vi dicevo prima che se tu invece non ti sei fatto otto ore di gestione finanziaria di progetto arrivi che non hai la minima idea di che cosa si sta parlando e quindi non riuscirai a ottenere valore da questo tipo di attività l'ultima cosa che vi racconto a proposito di metodologie è il fatto che poi noi sviluppiamo anche tutta una serie di giochi che non sono queste simulazioni cioè queste simulazioni vi sto facendo vedere sono dei verticali su un argomento cioè è una cosa molto 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 di dettaglio sulla gestione del valore finanziario di commessa sulla gestione del rischio di commessa sulla pianificazione su quello che volete abbiamo questi verticali in cui ti faccio ragionare su come applicare questa roba ai casi reali però guardando solo questo pezzettino perché sto in qualche modo consolidando la formazione che hai fatto con le clip su quell'argomento ora quello che però ci siamo accorti a un certo punto che cominciava a mancare era una visione sistemica del progetto cioè non è che poi uno fa la gestione del rischio un altro fa il controllo un altro fa il valore un altro fa la pianificazione il progetto è sempre lo stesso quindi in qualche modo deve esistere una competenza molto forte che è quella di integrazione di tutte queste conoscenze ma come faccio io a essere sicuro che poi qualcuno sia in grado di guardarle tutte insieme per fare questo abbiamo sviluppato dei giochi alcuni sono semplici questo non è neanche nostro di Harvard in cui devi gestire l'organizzazione di progetto con tutta una serie di feedback per riuscire a ottenere dei risultati alcuni sono molto complessi cioè noi abbiamo lavorato con uno spin off dell'università di Udine per la costruzione di un business game di project management molto complicato che si basa su alcuni pezzi quindi stage one to stage six dell'assembly di un elicottero sono in questo modo qua ci sono due fasi una fase di bid e una fase di delivery la fase di delivery poi viene giocata n volte quindi all'inizio i giocatori devono in modo competitivo fare tutta la pianificazione fino ad arrivare a rispondere a un bid quindi a definire i tempi i costi e il prezzo di uscita come distribuiranno le fatturazioni sulle varie milestone eccetera eccetera e poi invece il progetto inizierà e quando inizierà le cose succederanno e tu dovrai continuare a prendere decisioni durante il progetto è una cosa lunga nel senso che loro hanno una giornata intera otto ore in cui fanno solo la fase di bid e il primo delivery e poi invece a casa continueranno a loggarsi la sera hanno una settimana per il delivery 2 una settimana per il delivery 3 in cui devono andare a giocare singolarmente quindi ognuno ripartirà dal punto a cui è arrivato e alla fine avremo qualcuno che vince e qualcuno che perde tanto per adesso non scenderò troppo nei dettagli ma tanto per darvi un'idea di cosa chiediamo all'agente di fare noi avremo nella fase di bid mille punti nella fase di delivery altri 2000 punti verso cliente interno e verso cliente esterno il bid dipenderà dal prezzo di vendita della fornitura dalla data di consegna promessa e dalla distribuzione della fatturazione non per esempio dalla qualità che il cliente dà per scontato quindi tu dovrai pianificare decidere chi fa queste attività che fornitore esterno utilizzare alcune decisioni di make or buy se cresciare o non cresciare quindi dovrai avere tutta la fase di pianificazione fino a uscire con una proposta verso il cliente ovviamente chi farà la proposta migliore piglierà mille punti chi farà la proposta peggiore piglierà zero e tutti gli altri saranno distribuiti in mezzo secondo una logica abbastanza lineare dopo di che il progetto inizierà e cosa succederà che il cliente esterno comincerà a chiedere cambiamenti e quindi il suo livello di soddisfazione dipenderà da quanto voi accetterete o non accetterete i change request in alcuni casi vi riconoscerà anche del tempo dei costi aggiuntivi mai insufficienti a coprire l'effort che vi sta effettivamente chiedendo ma vedrà anche la qualità del prodotto ma vedrà anche il ritardo sulla riconsegna promessa quindi questo determinerà quanto sarà felice o infelice il vostro cliente esterno il vostro cliente interno invece è l'impresa a cui avete promesso un certo numero di una certa quantità di valore creato EVA economic value added e quindi andrà a vedere se tu stai riuscendo a mantenere l'eva che hai promesso ora è ovvio che se più soddisfarai andrei a soddisfare le richieste del cliente di scope change andrei a spendere più di quanto guadagnerai e quindi avrei a diminuire il valore creato per l'impresa lì dovrai gestirti in trade off non potrai fare tutti felici sarà impossibile che è poi la verità andremo a vedere il valore totale ricreato il margine eccetera eccetera quindi questa simulazione è fantastica perché ti obbliga a fare risk management applicazione delle WMS pianificazione gestione del valore di commessa definizione del capitale circolante a prendere decisioni guardando tutti questi fattori quindi è una simulazione molto complessa la durata di una giocata fatta bene va dalle 8 nel caso più semplice ma se si usa bene supera tranquillamente le 20 ore e tu per 20 ore stai applicando tutto quello che hai visto nel corso e se non applichi tutto quello che hai visto nei vari passaggi del corso non ce la fai addirittura nell'ultimo sviluppo che abbiamo fatto abbiamo introdotto se vi ricordate bene noi crediamo molto nella parte behavioral del project management abbiamo introdotto anche la parte behavioral e quindi in realtà durante il progetto tu riceverai una serie di mail o da clienti esterno o da personaggi del team di progetto i quali hanno delle caratteristiche e quindi ti daremo delle schede che ti raccontano con chi stai parlando in questo caso John è un americano è un software manager ha una laurea all'MIT è graduato nell'esercito dopo il congedo passa all'impresa di software caratteristiche personali è altamente motivato con molta energia nervosa ha un grande bisogno di successo di ottenere risorse di dare prendere il comando spingere gli altri ad agire soprattutto a vincere se si presentano ostacoli troverà un modo per agirarli debolezze a volte inclina alle provocazioni si segnare un episodio in cui ho offeso un collega poco dinamico e per ognuno dei personaggi tu hai schede di questo genere a che cosa ti servono? ti servono perché parte della formazione è anche come sono a seconda e come sono fatte e quindi come funzionerà? funzionerà che John a un certo punto ti scriverà in questo caso Malcolm ti scriverà una mail e questa mail sarà fatta in un certo modo tu sapendo cosa c'è scritto nella mail e sapendo di Malcolm dovrai scegliere tre risposte possibili ora se tu risponderai nel modo giusto chiedere le cose nel modo giusto che significa che non c'è un modo giusto punto per alcune persone un modo giusto è estremamente veloce ok mi servono questo e questo per questo motivo per altre persone invece se fai così si offendono devi andare nel dettaglio di cosa come quali sono esattamente le caratteristiche della tua richiesta qual è il livello di dettaglio che ti serve eccetera eccetera se tu azzecchi le risposte cioè sei in modo di comunicare a seconda di chi ti sta di pronte otterrai delle risposte molto più rapide se tu invece sbagli tra virgolette e interagire con le persone quello che succederà è che questi qui non ti rispondono oppure invece di risponderti con le informazioni che hai chiesto ti rispondono con delle domande di approfondimento e tu perdi tempo vedete che qua sopra c'è un counter un'ora 36 minuti e 12 secondi questo significa che nella simulazione i delivery quindi le fasi durano una settimana virtuale e durante questa settimana tu devi chiudere tutte le decisioni le mail che tu mandi avranno una risposta al giorno dopo quindi se tu cominci a sbagliare in modo di interagire le informazioni che ti servono per prendere decisioni invece di arrivare al secondo giorno della settimana ti arrivano al sesto e se ti arrivano al sesto magari anche sbagliate se continui a comportarti in modo non corretto a seconda della persona che hai di fronte più meno tempo tu avrai per prendere decisioni o meno qualità delle informazioni tu avrai per prendere decisioni quindi in questo modo andiamo a simulare tutto questo come potete immaginare sotto a dei modelli riconosciuti a livello scientifico andiamo anche a simulare non solo la tua capacità di ma anche di interagire in modo corretto con le persone quindi come vedete c'è tanta roba cioè non so a che cosa voi foste abituati come formazione di management però noi abbiamo lavorato moltissimo e stiamo lavorando moltissimo su tutta la parte proprio di modifica di come funziona il processo di apprendimento perché perché l'università non può rimanere quella che era quando l'ho fatta io e probabilmente alcuni alcuni di voi perché io ho ancora i libri di Gutenberg e il fatto di leggersi lì sul Kindle non cambia il fatto che sono sempre i stessi libri di Gutenberg che adesso non sono più stampati ma il tipo di esperienza che io ho è sempre mi siedo leggo questa cosa in questo mondo non è più possibile e questi sono alcuni degli esempi di quello che noi stiamo facendo per cercare di modificare la nostra la nostra offerta in realtà poi avevo anche un altro contenuto su come misurare l'efficacia della formazione ma credo che il mio tempo sia terminato quindi mi piacerebbe capire se qualcuno ha delle domande o di approfondimento o delle considerazioni sarò più che felice di potervi di potervi rispondere sono Dario quindi se avete domande potete pure scriverle nella sezione domande o questions a seconda della versione che avete di GoToMeeting da cui state partecipando c'è anche una una chat però insomma se riuscite a usare la sezione domande è meglio aspettiamo qualche qualche secondo se no magari un paio di domande le abbiamo io e Valerio vedo che Marco della grassa ha una domanda magari può scriverla o gli diamo come funziona meglio che lo scriva e poi lo ripetiamo ah la c'è scritta scusate mi ero rimasto indietro però io non riesco a vederla ecco qua è possibile avere la registrazione del webinar questa è la domanda questo non lo so ok la registrazione del webinar è adesso e dobbiamo una volta registrato dobbiamo poi trasformarlo c'è un piccolo post-processing e poi verrà messo a disposizione sì anche le slide saranno facilmente ottenibili c'è un'altra domanda che sembra che per questo nuovo processo di apprendimento servano molte nuove competenze oltre a quella di Merita quali sono sono le principali quindi lato di chi eroga di chi progetta o di chi o di chi fruisce della formazione e Angelo credo che si intenda di chi fruisce lato lato di chi fruisce in realtà secondo me è il più grosso il più grosso cambiamento una cosa che devo raccontarvi che non vi ho detto che noi ormai abbiamo anche un po' di esperienza di questa cosa nel senso che è in continua evoluzione ma sono anni che stiamo testando queste cose e abbiamo abbiamo capito alcune cose abbiamo capito che uno dei passaggi fondamentali è che cambi il mindset di chi partecipa alla formazione perché questo perché esistono dei concetti che sono molto spinti oggi in HR per esempio il concetto di employability non so se ne avete mai sentito parlare che non c'è dei employability significa che tu in realtà dovresti lavorare non solo per fare il lavoro che ci si aspetta ma dovresti anche in qualche modo essere in grado di lavorare per la crescita della tua possibilità di essere impiegato cioè si intende il fatto che tu dovresti investire su te stesso in una fase di formazione che parzialmente sarà offerta dall'organizzazione a cui appartieni e altre cose sono all'esterno ma è sempre di più ci aspettiamo che le persone sviluppino delle competenze anche al di fuori del proprio mondo lavorativo vi dicevo prima Dario che una delle cose che io faccio è gestire quello che si chiama Career Development Office della Business School del Politecnico quindi noi tra i servizi che offriamo ai nostri studenti c'è il fatto di supportarli a costruirsi una carriera non vuol dire trovargli un lavoro ma che significa spiegargli questa roba cioè che se tu vuoi costruire un certo tipo di carriera dovrei fare una serie di investimenti su di te che non possono essere tra virgolette passivi cioè non puoi aspettare che l'impresa faccia alcune cose per te in questo caso l'impresa sta facendo alcune cose per te ma ti chiede di farle proprio la tua parte quindi se tu non cosa succede tipicamente che noi quando facciamo questa formazione la scaglioniamo nel tempo questo perché perché al primo giro la gente arriva senza aver visto le clip o le ha viste velocemente mentre faceva altre cose le ha ascoltate in macchina eccetera eccetera che le clip siano una cosa che tu puoi usare in modo residual richiedono che tu ci metti al cervello e stia lì ad ascoltare hanno una cosa molto positiva lo puoi fare quando vuoi dove vuoi non dobbiamo essere tutti nel stesso posto ognuno ha dei tempi di apprendimento diversi c'è chi deve vedere le cose dieci volte chi una sola eccetera eccetera però è effettivamente la fruizione di un corso e questo significa che di solito al primo giro la gente arriva impreparata poi capisce come funziona e quello che succede è che a quel punto cambia completamente l'atteggiamento cioè una volta dopo arriva iper preparata avendo letto tutto quello che c'è da leggere e fatto tutto quello che c'è da fare Angelo chiede anche invece dal punto di vista di chi la fornisce poi abbiamo altre due domande allora dal punto di vista di chi la fornisce è una tragedia nel senso che se io non so che livello di conoscenza voi abbiate dei professori universitari io ne conosco una certa quantità e diciamo che non ci categorizzerei tra gli esseri umani più flessibili del mondo e fare quello che vi sto raccontando significa che tu devi riprogettare cioè tu sono 30 anni che fai lezione di accounting o di project management e devi riprogettare riprogettare tutto cioè devi riprogettare come la gente impara devi riprogettare i singoli passaggi devi diventare molto più grafico ci sono tutta una serie di cose che devono succedere adesso funziona il sistema se volete votare e quindi vuol dire che lato interno noi stiamo avendo grosse difficoltà addirittura abbiamo costruito un articolo scientifico che attualmente è in review quindi sarà pubblicato tra poco su come l'abbiamo affrontato cioè abbiamo scritto un articolo su come siamo riusciti a far succedere questa cosa perché abbiamo dovuto lavorare su tantissimi fronti e la dimissione behavioral nel convincere le persone a cambiare quello che hanno fatto per una vita e sono convinti di saper fare molto bene è un passaggio molto molto forte quindi è molto molto difficile dunque c'è un'altra domanda di Marco credo che abbiamo spazio solo per una poi vuole dei saluti finali è questa metodologia che risultati ha avuto nelle persone che l'hanno adottata almeno un flash su quelle principali allora questa è un'ottima domanda infatti avrei voluto farvi vedere qualcosa anche con dei numeri però ve lo racconto velocemente noi una volta facevamo comunque una formazione in aula e poi queste simulazioni in cui la gente doveva applicare adesso invece facciamo le clip e le simulazioni allora tranne la prima che come vi dicevo la gente di solito non la guarda dalla seconda in poi noi abbiamo notato e abbiamo anche misurato perché facciamo una serie di test aumento di skill e conoscenze spaventoso cioè se tu ti sei letto le cose ti sei ascoltato hai fatto i microesercizi ti sei preparato quando poi vieni in aula a livello della discussione è un livello di discussione tra persone che sanno quello di cui stanno parlando e l'effetto finale è che tu impari una quantità di roba spaventosa che altrimenti non impareresti se avessi dovuto o se non hai fatto evidentemente i corsi o se anche li avessi fatti la mattina in presenza non li hai veramente digeriti il pomeriggio siccome noi non possiamo vederci 46 volte perché il tempo delle persone è importante devo dire che i risultati in temi di delta è superiore a quello che ci saremmo aspettati vi aggiungo solo una nota abbiamo fatto queste cose anche per noi abbiamo il primo master MBA completamente flex quindi completamente basato su piattaforme parzialmente con clip parzialmente sincrona e quindi anche gli incontri in aula avvengono su delle piattaforme che abbiamo sviluppato con Microsoft dopodiché abbiamo cominciato a fare gli stessi esami di ingresso e di uscita agli MBA in presenza agli MBA online e gli MBA online non solo non hanno avuto una perdita di incremento di conoscenza rispetto a quello in presenza hanno avuto un aumento e questo è certificato da un ente esterno quindi se lo fossimo fatti da soli sarebbe stato un po' poco credibile c'è un ente esterno che poi è l'università degli studi quindi siamo andati a sceglierci gente che ci vuole anche un bene relativo insomma i quali hanno certificato che la gente impara di più impara meglio vogliamo tutti usare questa roba funziona meglio va bene allora chiudo per non abusare troppo del tempo di Tommaso e di tutte le persone e notando che siamo degli amanti dell'arte a quanto sembra dai risultati della Pol ringrazio tutti per aver partecipato grazie a tutti grazie a tutti